Io sono Luca Marcolin e questo è Family Business Unit, il podcast dedicato alle imprese di famiglia dove trovare spunti, stimoli, informazioni utili per gestire al meglio impresa e famiglia ed ottenere risultati in armonia. Benvenuti al nostro FBO Club, il podcast dedicato alle imprese di famiglia. Ma che cos'è un'impresa di famiglia? Tante volte intorno a questa parola si associa la dimensione della bottega artigiana piuttosto che del negozietto dove mamma e papà lavorano insieme per dare reddito alla loro famiglia. Eppure non è così, impresa di famiglia ha tante definizioni. A me piace pensare che quando c'è un imprenditore edito la sua famiglia che guida l'impresa, quella è un'impresa di famiglia anche se ha dimensioni industriali di tutto rilievo. Da questo punto di vista quindi stiamo parlando di realtà aziendali che non hanno nessun vincolo in termini di settore ma neanche in termini di dimensione aziendale. Stiamo parlando di quelle realtà nelle quali comunque le dinamiche familiari soprattutto al vertice investono anche l'azienda e l'azienda ha una grande importanza per le dinamiche familiari. In tutto il mondo le imprese di famiglia hanno una grande reputazione. Quando si sa che dietro c'è un imprenditore, c'è una famiglia che ci tiene a quello che sta facendo la propria impresa, ecco allora che la fiducia dei consumatori ma anche della comunità dei lavoratori che appunto sono coinvolti in quell'impresa di famiglia è molto più alta che non nell'impresa meramente manageriale. Questo appunto perché c'è un coinvolgimento, c'è una passione, c'è un interesse, c'è un legame con la comunità, c'è un legame con l'attività sociale che non è necessariamente altrettanto forte quando si sta parlando invece di un'impresa meramente manageriale. C'è chi pensava che l'impresa di famiglia fosse un po' un retaggio del passato e che appunto il percorso fosse evolu... C'è chi pensava che l'impresa di famiglia fosse un po' un retaggio del passato e che quindi l'evoluzione portasse naturalmente ad avere delle strutture aziendali, manageriali, strutturate in un modo appunto molto più tra virgolette professionale. Eppure l'impresa di famiglia non è scomparsa, proprio perché l'imprenditore non scompare, proprio perché c'è bisogno di una dinamica e di un'energia che non è solo quella del professionale e del professionista, ma c'è bisogno di mettere in campo valori e coinvolgimenti che non sono appunto così scontati. Ed è questo il motivo per cui abbiamo visto anche nelle recenti crisi le imprese di famiglia reagire meglio, con più efficacia su tutti i fronti rispetto alle pari aziende non familiari. Pari aziende intendo per dimensioni aziendali piuttosto che per settore industriale. Più forte e più veloce è stato il recupero dei fatturati, più forte è stata la capacità di difendere i margini e anche la debolezza tipica di tante imprese di famiglia, cioè quella di magari lavorare un po' più a debito, è stata superata dal fatto che il patrimonio di tutta la famiglia è coinvolto nell'impresa, quindi quando poi ce n'è bisogno abbiamo visto come c'è stata la capacità di rifinanziare l'impresa. E la questione è proprio, e la questione principale è proprio quella di cosa porta la famiglia imprenditoriale all'impresa. Porta un approccio e una cultura condivisa, porta una grande conoscenza nel settore in cui è coinvolta, porta una grande flessibilità decisionale, poca burocrazia e tanta velocità nel prendere le decisioni. Porta la capacità di guardare più a lungo termine senza preoccuparsi dei risultati di breve, quindi anche in questo la capacità di fare investimenti anche quando magari il conto economico ti farebbe un po' dubitare. Porta la capacità di mettere in campo un orgoglio familiare, la convinzione di dover dimostrare qualcosa che dà solidità appunto all'impresa. Tutto positivo quindi? No, questa è la questione, non è per niente positivo poi, non è per niente facile meglio ancora portare davanti un'impresa di famiglia perché si aprono delle sfide che sono loro specifiche. La prima grande sfida è la sfida tra generazioni, come dare continuità all'impresa. Bada bene, badiamo bene, la continuità dell'impresa è un problema per tutte le imprese, non solo per le imprese di famiglia. Diciamo però che quel momento del passaggio della successione tra prima e seconda generazione piuttosto che tra seconda e terza è molto spesso motivo di grandi difficoltà. Si calcola che il 30% più o meno delle imprese di famiglia riescano a superare ogni volta il passaggio generazionale. C'è poi la sfida del lavorare insieme tra parenti, tra fratelli, tra cugini, dove appunto il coordinamento, la capacità di assoggettarsi reciprocamente a dei vincoli organizzativi può essere stressata dal fatto che magari ci sono delle aspettative legate al proprio ruolo in famiglia, il fatto di essere primogeniti o non primogeniti, più vecchi o non più vecchi, maschi piuttosto che femmine, a seconda della cultura appunto che in famiglia si è respirato. E poi appunto mettere insieme, quando abbiamo più persone coinvolte, la visione strategica, cioè la visione dell'orizzonte sia temporale che di direzione che si vuole intraprendere insieme, può essere appunto faticoso. Come è faticoso darsi regole e organizzazione? Quella organizzazione informale che magari va bene appunto per le piccole imprese diventa un limite enorme quando l'impresa cresce, ma se appunto troppa famiglia è coinvolta in modi troppo appunto familiari, ecco che crescere organizzativamente, darsi nuove regole, darsi dei vincoli, delle obbligazioni reciproche può diventare faticoso. Così come è molto faticoso pensare di coinvolgere non solo delle persone a livello operativo, ma delle persone con delle responsabilità gestionali, chiamiamoli manager, manager esterni, persone appunto che vogliono contribuire con la loro professionalità alla crescita dell'impresa, ma ai quali bisogna dare una delega e delle autonomie che non sono magari quelle abituali a quali siamo abituati. Ecco, lavorare con le imprese di famiglia, allora vuol dire saper salvaguardare la dimensione familiare, la dimensione relazionale affettiva e di coinvolgimento di tutta la famiglia e dall'altro lato aiutare questa impresa a crescere professionalmente, managerialmente, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di governance societaria. Queste due cose vanno create insieme, vanno bilanciate insieme, non posso dedicarmi solo alla dimensione relazionale, non posso dedicarmi solo alla dimensione organizzativa, non posso guardare solo come si fa spesso nella consulenza alla dimensione aziendale, senza tener conto della dimensione familiare all'interno dell'impresa, ma anche eventualmente all'esterno dell'impresa, quando magari delle persone influenti in famiglia non sono presenti appunto nelle strutture dell'azienda, della società. Ecco, parleremo altre volte in questo podcast di cosa possiamo far noi nelle imprese di famiglia o con le imprese di famiglia, ma la prima cosa che volevamo dire in questa prima puntata era quella dell'onorare e riconoscere l'importanza delle nostre imprese di famiglia. Ecco, da quel punto di vista parleremo anche di come abbiamo sviluppato in FBU un modello che tiene conto di queste dinamiche, in particolare del fatto che bisogna avere a mente dimensioni diverse, quella familiare, quella aziendale e poi la singola persona coinvolta, quindi quella personale, di scelte personali che vengono fatte quando si lavora insieme nell'impresa di famiglia. Ed è proprio partendo da queste tre dimensioni, quella personale, quella familiare e quella organizzativa e aziendale, che abbiamo cominciato, grazie anche al momento di crisi che ha bloccato tutti e ci ha riversato tutti online, ad aprire un po' un canale di comunicazione, di confronto con i nostri interlocutori sulle imprese di famiglia, con le imprese di famiglia. Nel corso dei mesi di maggio e di giugno del 2020 abbiamo appunto sviluppato una serie di incontri dedicati a queste tre dimensioni e qui li riproponiamo registrati, quindi è un podcast da questo punto di vista, almeno per le prime puntate, dedicato a tener traccia di quanto avevamo sviluppato online, quindi lo offriamo proprio perché possa essere di stimolo, di supporto a chi si occupa di imprese di famiglia e a chi è parte di imprese di famiglia. Se volete approfondire i temi che trattiamo, oltre a continuare appunto a seguire questo podcast, potete visitare il nostro sito www.familybusinessunit.com www.familybusinessunit.com